Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24, apriamo parlando di cronaca e partendo da Palermo, controlli della Polizia alla Vuciria, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato cocaina e hashish, vediamo il servizio. La Polizia di Stato di Palermo nell'ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore del capoluogo siciliano ha raggiunto ragguardevoli risultati in tema di contenimento degli indici di criminalità. L'attività della Polizia si è concentrata sulla zona della Vuciria, noto luogo di aggregazione della movida cittadina. Nello specifico, grazie alla fondamentale collaborazione dei cinofili della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Centro sono riusciti ad individuare, occultati in alcuni anfratti sulla pubblica via, 159 grammi di hashish suddivisi in 36 dosi pronte per lo spaccio al minuto e 27 grammi di cocaina suddivisi in 69 dosi. L'ingente quantità di sostanza stupefacente è stata pertanto sequestrata a carico di ignoti. L'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio è proseguita nel cuore del centro storico, nei pressi di Piazza Caracciolo, dove l'attenzione degli agenti e dei cinofili è stata attirata da una piccola utilitaria in sosta. I polizzotti hanno riscontrato che l'autovettura in questione presentava diverse irregolarità alle norme del codice della strada, motivo per cui è stata posta sotto sequestro. Nel corso delle suddette operazioni sono state complessivamente identificate 40 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllate 20 vetture, elevate 5 sanzioni al codice della strada e un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane. Continuiamo a parlare di cronaca, ma da Palermo ci spostiamo adesso a Rosolini, nel Siracusano. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno arrestato un disoccupato 41enne in esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di Siracusa. L'uomo dovrà espiare la pena di 5 mesi e 5 giorni pena per reiterate violazioni, a partire dal 2011, alle misure di prevenzione irrogate a suo carico negli anni passati. Dopo le operazioni di rito, i carabinieri lo hanno posto agli arresti domiciliari. Cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso di un tragico incidente stradale, l'ennesimo purtroppo sulle strade siciliane e stavolta la vittima è giovanissima, un ragazzo di 15 anni, il quale ha perso la vita in seguito, come detto, a un tragico incidente avvenuto ad Adrano, lungo la strada provinciale 122. Il giovane era a bordo di una minicar guidata dalla sorella di 17 anni, il mezzo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato finendo la sua corsa contro un muro. Sul luogo dell'incidente è stato trovato un gatto senza vita, è probabile dunque che la ragazza abbia tentato di evitare l'animale, perdendo però il controllo della minicar. Il quindicenne è morto sul colpo, mentre la sorella, rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale San Marco di Catania. Ed ora parliamo di terremoti, perché continua a tremare la terra in Sicilia dopo le scosse avvenute nelle scorse settimane, certamente lo ricorderete, ne abbiamo parlato, scosse avvenute in diverse zone della Sicilia, stavolta invece il terremoto si è verificato a Monreale, è stato proprio qui l'epicentro, un terremoto di magnitudo 2.5 registrato alle 21.29, è localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a 9 chilometri di profondità, come detto, con epicentro a Monreale. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, tante le reazioni sui social, quindi tanta paura, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose, è un po' la stessa cosa successa anche nelle scosse di terremoto passate, dunque tanta paura certamente per chi le ha avvertite, ma come detto non ci sono stati problemi e danni a persone o cose. Ci spostiamo adesso a Stromboli, continua la fase eruttiva del vulcano e continua a essere davvero bene alimentata la colata alavica che fuoriesce ormai da ieri dal settore craterico di nord-est dello Stromboli appunto, che sta percorrendo, parliamo sempre della colata alavica, il pendio della sciara del fuoco arrivando fino al mare. Oggi, dopo la prevista riunione in videoconferenza con il Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Laboratorio Geofisico Sperimentale dell'Università di Firenze e il Prefetto di Messina, il Sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, considerato lo stato di potenziale disequilibrio del vulcano, potrebbe emettere un'ordinanza che vieta le escursioni sullo Stromboli anche alle quote sino a oggi consentite, ovvero 290 metri senza guide e 400 con le guide. Dunque, massima allerta, massima attenzione per la situazione dello Stromboli, aspettiamo l'esito di questa importante riunione in videoconferenza stampa, in videoconferenza scusate, se ci saranno novità ovviamente ve le daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Cambiamo argomento, adesso parliamo di maltempo, sarà una giornata di intense piogge praticamente in tutta la Sicilia, vi daremo nuovi aggiornamenti nel corso della giornata, già a Palermo vi anticipiamo colpita da forti temporali, ma torniamo intanto su quanto accaduto ieri a Trapani, dimostriamo anche delle immagini, di nuovo allagamenti a causa del maltempo, era già avvenuto nei giorni scorsi e le forti piogge che si sono abbattute ieri sulla città di Trapani, ma anche nell'Interland, hanno creato diversi disagi sia agli automobilisti ma ai cittadini in generale, come potete vedere da queste immagini, strade letteralmente allagate, auto in panne, diverse le vie cittadine trasformate in veri e propri fiumi. L'acqua che in certi casi è entrata anche nei negozi, era successo già in passato e quindi nuove difficoltà per i commercianti a Trapani. Questa è un po' la situazione, ancora una volta dunque la città ha dovuto fare i conti con la violenza del maltempo in questo inizio di autunno. Ripetiamo, sarà una giornata difficile per tante zone della Sicilia, previste piogge praticamente ovunque, vi terremo aggiornati, se ci saranno novità, se ci saranno ulteriori situazioni critiche da attenzionare. Parliamo adesso di un'operazione di soccorso avvenuta invece ieri pomeriggio sull'Etna con i tecnici del soccorso alpino e speleologico che sono intervenuti per il recupero di un anziano turista il quale era stato colto da un malore nella zona del rifugio di Monte Crisimo, siamo sul versante nord dell'Etna. Allertati dalla guida che conduceva il gruppo escursionistico dal quale l'uomo faceva parte, le squadre di intervento del SAS hanno percorso il sentiero 732 fino al rifugio dove insieme ai compagni di escursione il turista si era fermato e dove appunto aveva accusato il malore. Valutate le sue condizioni, i soccorritori hanno rapidamente accompagnato l'anziano signore con i mezzi 4x4 fuori dalla zona impervia per affidarlo poi ai sanitari del 118, nel frattempo allertati e giunti sul posto con un'ambulanza, sanitari che hanno poi proceduto al trasporto in ospedale del turista. Parliamo adesso di Cateno De Luca perché si è posto un altro ambizioso obiettivo dopo le elezioni regionali, non è stato eletto governatore ma ha ottenuto comunque un ottimo risultato, adesso De Luca cerca invece di diventare sindaco di Taormina. Insomma, una nuova sfida per Cateno De Luca, forte anche chiaramente del consenso ottenuto alle recenti elezioni regionali, soprattutto a Messina e provincia. E quindi Cateno ci riprova con un'altra città messinese, ovvero Taormina, si è presentato in piazza, ha chiesto ai taorminesi mi volete come sindaco queste le parole di Cateno De Luca, perché vi dovete accontentare di questa situazione, ha aggiunto che volge sempre al peggio e non ottenere invece quello che meritate. Oggi non è più tempo di vivere di rendita, le fasi macroeconomiche che ci attendono ci impongono di reagire mettendo in campo le nostre forze migliori. Taormina ha affermato De Luca ha bisogno di una marcia in più, il mio è solo uno spirito di servizio per il nostro territorio, come ho già fatto a Fiume di Nisi, Santa Teresa di Riva e Messina. Queste sono tre città amministrate con ottimi risultati da Cateno De Luca. Se voi taorminesi lo vorrete, ha detto, io sarò pronto a candidarmi per essere il vostro sindaco. Dunque vedremo se in effetti De Luca riuscirà in questo suo nuovo obiettivo, ovvero quello di diventare sindaco di Taormina dopo essere lo stato di Fiume di Nisi, Santa Teresa di Riva e in ultimo a Messina. Ed ora il calcio. Ieri sabato e domenica si sono giocate partite importanti in Sicilia, sia per quanto riguarda la Serie D ma anche la Serie B. Partiamo dalla D con il nuovo Catania che marcia alla grandissima. Quinta vittoria su altrettante gare di campionato. 4-0 al Massimino davanti al pubblico rossazzurro. Un'altra buona prestazione e ha parlato a fine partita soddisfatto chiaramente il tecnico rossazzurro Ferraro. E allora sentiamo le sue parole in conferenza stampa. Personalmente e fisicamente credo che siamo ancora al 70%. Dopo maridiamo e la partita che facciamo in casa. Dopo quella settimana aumenteremo un po' lo step fisico e mentale perché non è facile giocare ogni tre giorni i partiti. Faccio i complimenti alla squadra, al gruppo. Faccio i complimenti al pubblico perché non è facile preparare i partiti ogni tre giorni. diciamo che sono stati bravi i ragazzi e soprattutto anche i ragazzi quelli che non hanno giocato capiscono di quanto è importante questo campionato. Diciamo che il Castrovilli già lo conosciamo anche se veniva da una sconfitta della domenica prima però erano solo rimasti in dieci. A Brescia è una buona squadra è una squadra che è ben messa in campo. C'erano i giocatori con ottime ripartenze. Ma niente, penso che il Catania quando gioca gioca da Catania anche il primo tempo, al secondo tempo a lungo andare con i calciatori che abbiamo, con la qualità che abbiamo, con il fraseggio che abbiamo diciamo che la soluzione la troviamo. Bisogna essere sempre solidi nella fase difensiva, bisogna rischiare il meno possibile che poi prima o poi il gol lo facciamo sicuramente. Infatti il primo tempo ho fatto una cosa da Prato del Portiere su una disattenzione difensiva però non è facile ogni tre giorni a fare delle partite a livello fisico, a livello mentale per questo. Però sono contento della squadra, del gruppo, del pubblico eccezionale che abbiamo. Niente, oggi sacchiamo un po' la spina e poi dai, da martedì pensiamo alla prossima partita che abbiamo difficile a Marigliano. Catania ride, piange invece Palermo, è arrivata un'altra sconfitta in Serie B, stavolta pesantissima, 3-0 a Terni contro la Ternana, adesso Corini rischia davvero, bisogna dare risposte, questo ha detto il tecnico Rosanero a fine partita, sentiamolo. I colpevoli siamo tutti, io per primo, quando vuoi fare un certo tipo di partita e nel primo tempo qualcosa hai fatto intravedere, ma se poi alla prima situazione negativa non hai le risorse per reagire, l'avversario ogni volta che ti riparti ti mette in difficoltà, non ci sono scusanti, è una prestazione oggettivamente brutta da parte nostra, è un momento di difficoltà, capisco che in certe situazioni a parte tutte le problematiche anche la componente psicologica gioca una parte fondamentale, ma come dicevo prima ai ragazzi e come dicevo ai vostri colleghi, io per primo e tutti noi dobbiamo trovare risorse dentro di noi per affrontare questo momento e la forza la dobbiamo trovare per forza e in questo momento bisogna giustamente prenderci tutte le critiche che stanno arrivando e trovare la forza dentro di noi per reagire a questo stato di cose che oggettivamente cinque sconfitte in sei partite sono troppe, stiamo male nel senso che ne soffriamo tutti ma dobbiamo trovare la forza per reagire e far vedere un Palermo totalmente diverso da quello che è stato visto oggi. Per me è uno spogliatoio qualcosa di sacro, qualcosa che ci si deve dire le cose in faccia per quelle che sono e lo stimolo è quello che in questo momento solo con la forza interiore possiamo uscire e affrontare questo momento delicato. È inutile dire qualcosa di diverso e così ci assumiamo le responsabilità di questo momento e dobbiamo dare delle risposte. Quando hai 15 giocatori nuovi è normale che la storia comune di questa squadra sia fatta di poche partite e a volte abbiamo bisogno dell'inerzia ad andare a prenderla per metterla dove vorremmo noi ma dobbiamo anche reagire a questo stato di cose e non sentire il peso della difficoltà ma saperla andare a affrontare a testa alta con orgoglio con coraggio non si deve arretrare di un millimetro io posso accettare di perdere 2-0 ma il gol del 3-0 non lo posso accettare perché è qualcosa che c'è anche una dignità della sconfitta e di conseguenza il 3-0 è un segnale su cui lavorerò perché in quel momento lì non si deve arretrare un millimetro e da un po' un giocatore a partire da metà campo e arrivare in porta da sola. Con le parole di Corini chiudiamo questa edizione di Spazio e Notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. a partire